C'è un tema di un flusso informativo a volte alluvionale e per sua natura anche generico, anche perché molto spesso i soggetti che vengono segnalati rispetto a situazioni di percorsi di radicalizzazione che non necessariamente possono essere da subito apprezzati nella loro pericolosità. Se noi mettessimo in fila le migliaia di segnalazioni che quotidianamente arrivano sui nostri tavoli rispetto agli esiti che queste segnalazioni producono, voi avreste perfettamente, in maniera plastica, la rappresentazione dello spread che esiste tra ciò che si teme e ciò che accade.